un personaggio storico che si credeva scomparso da diverso tempo è stato avvistato nuovamente in una cittadina nei pressi di roma niente poco di meno che giuseppe garibaldi era proprio lui giuseppe garibaldi l'eroe dei due mondi l'ho visto qui dietro e non volevo crederci volevo volevo fermarlo per parlarci ma ma l'emozione è stata talmente forte che mi sono paralizzata a Grazie per la visione!